Eccoci qua ragazzi, ben ritrovati a tutti! Oggi andremo a vedere come utilizzare il TheEsser nelle tracce vocali, quindi che cos'è il TheEsser? Il TheEsser è un effetto, è un plug-in diciamo in questo caso, che va a togliere, come dice la parola, tutte le S, tutte quelle frequenze provocate da attorno ai 5500 fino ai 10.000 Hz diciamo, provocate dall'ecolizzazione, perché il punto qual è che molte volte per avere una voce chiara si va a equalizzare, chiara e trasparente per avere una vitalità nella voce, si va a equalizzare, ad aumentare tutte quelle frequenze che sono considerate medio-alte, quindi dai 5000 Hz in poi. Che cosa succede? Che alcuni suoni provocati dalla S, come io che ce l'ho molta romagnola, diciamo che cosa fanno? Vanno a inasprire il suono della voce, vanno a creare dei suoni che sono abbastanza fastidiosi. Andiamo a sentire, andiamo a vedere appunto come utilizzare il TheEsser in questione, quindi io qui ho una traccia vocale, che posso, prima magari ascoltiamo un po' quello che è il brano in questione. Andiamo a equalizzare qua, ad esempio qui, di sapere cosa faccio, qui, sentite questa S qua, di sapere cosa, qui, di sapere cosa mangio e cosa faccio dalla sera alla mattina. Ok, sentite queste S come sono spigolose, io adesso andrò ad aprire un, della Waves, un TheEsser, sentite qua, e andiamo ad aggiustare la Threshold, quindi a beccare. Io qui posso ascoltare le frequenze che sto togliendo, con questo, queste sono le frequenze che sto togliendo. Diciamo che per, come lavora il TheEsser, qui sta togliendo, è un compressore che toglie in maniera molto veloce, molto rapida, gli attacchi dei suoni, quindi è semplicemente un compressore che va a schiacciare, a togliere solo certe frequenze, in questo caso le frequenze dai 5.506 Hz in su. Io posso anche decidere di togliere solamente una frequenza in particolare, questa ad esempio, cercare ad esempio di puntare, qui vado a cercare la frequenza che mi dà fastidio. Solitamente però le frequenze che ci danno fastidio sono più di una, non c'è solamente una frequenza che può essere fastidiosa ed è per questo che consiglio sempre di tenere il Seichen in questa modalità, in modo che vado a prendere tutte le frequenze dai, ad esempio dai 5.900 Hz in su. In questo modo, sentite sono tante in questo modo qua. Lo tolgo, metto l'audio normale. Di sapere cosa mangio e cosa faccio dalla sera alla mattina. Sentiamo prima e dopo. Di sapere cosa mangio e cosa faccio dalla sera alla mattina. Di sapere cosa mangio e cosa faccio. Me l'ha ammorbidito senza togliere, appunto se questa cosa la andavo a fare con l'equalizzazione, con l'equalizzatore, avrei potuto rovinare un po' il suono. Diciamo che l'equalizzatore è un effetto che comunque lui va a togliere o aggiungere o amplificare delle frequenze indistintamente dalla dinamica del suono in quel momento. Quindi comunque lui toglie le frequenze dai 5.500 Hz in su se lo punti in quella frequenza lì. Sia che io sto cantando una S che sto facendo una vocale, sto facendo qualsiasi altra cosa. Quindi in questo caso è molto utile utilizzare quello che viene chiamato d'essere. Non è l'unico d'essere quello della Waves, ad esempio molto utile quello della FabFilter, questo per farvi capire un po' come funziona un d'essere chiamato DS. Sempre il tasto Audition, vado a puntare, sentite come lavora già, come me lo fa sentire. E io qui posso cambiare la frequenza. di sapere cosa mangio e cosa faccio dalla sera alla mattina. Anche questa è una frequenza fastidiosa ad esempio, che sono le medie dai 2.000 ai 3.300 Hz. Quindi posso utilizzare un d'essere di sapere cosa mangio e cosa faccio dalla sera alla mattina. Che lavora solo su queste frequenze molto mediose qua e un altro d'essere che va invece a lavorare sulle frequenze quelle più aspre acute come queste qua ad esempio. di sapere cosa mangio e cosa faccio dalla sera alla mattina. Senti come armormid. Di sapere cosa mangio e cosa faccio dalla sera alla mattina. Ovviamente qui ho la threshold quindi la soglia sulla quale va a lavorare il DS. E qui quanto lo faccio lavorare. Quindi in questo caso lo faccio lavorare parecchio. In questo caso non lo faccio lavorare praticamente per niente. Lasciamolo circa a me. Di sapere cosa mangio e cosa faccio dalla sera alla mattina. Questo è con e questo è senza. Di sapere cosa mangio e cosa faccio dalla sera alla mattina. Sentite come va a lavorare molto sulle frequenze puntate quindi sulle frequenze che abbiamo deciso di andare ad attenuare. Diciamo che il DS in genere è un compressore che è molto utile secondo me da utilizzare non solamente sulle voci o sui cori altra cosa parentesi. Nel caso in cui avessimo diversi cori dub è utile tenere di essere che lavori tanto sui cori perché la somma di tutte queste S di queste frequenze fastidiose della voce può essere più fastidiosa quando ci sono appunto cori o dub o terze o quinte armonie eccetera eccetera. Consiglio di tenere molto schiacciate quelle frequenze lì cioè di andare a lavorare molto su quelle frequenze soprattutto nei cori perché non avvertirò un fastidio nella mancanza di certe frequenze mentre invece nella voce lead nella voce principale è utile non andare a esagerare con il DS perché poi il DS un po' alla volta va a togliere gli attacchi dei suoni quindi diciamo che sono comunque frequenze fastidiose ma in un certo limite sono anche utili. Dicevo da essere utile utilizzarlo non solamente nella voce ma anche ad esempio nella batteria perché può togliere le frequenze fastidiose dei crash, dei tamburin, degli shaker diciamo che tutto quello che è frequenze medio-alte quindi frequenze fastidiose medio-alte si può andare a puntare esattamente sentire quella che è la frequenza che ci può dar fastidio ad esempio andiamo qua per far capire quello di cui sto parlando in questa chitarra acustica ok io adesso vado ad aprire un DS che è della FAP filter appunto sempre questo qua qui ho quello che è la corda diciamo il pletro questa può essere una frequenza fastidiosa e io vado a girare solamente su questa frequenza qui sto attenuando poco sentite senza in questo caso era già abbastanza morbida la chitarra però ad esempio posso avere i tamburin ecco qui ad esempio potrebbe essere utile mettere un bond di essere dobbiamo utilizzare quello della Waves di prima puntiamo un po' più in alto ok sentite come mi ammorbidisce il suono anche del tamburin quindi diciamo che è un plugin in effetto utile da utilizzare soprattutto nella voce ma non è l'unico strumento quello al quale è possibile applicare DS bene anche per oggi è tutto ci vediamo al prossimo appuntamento